Cari amici di Milano 1, siamo a Varese, a Villa Recalcati, sede della provincia di Varese, dove oggi alle ore 11 si terrà la conferenza stampa per la presentazione del nuovo concorso letterario Cereso in giallo e siamo qua anche noi per conoscere un po' tutti i protagonisti e tutto quello che sarà la nuova edizione. Intanto andiamo a conoscere tutte le personalità presenti. Siamo in compagnia di Carla De Albertis. Ciao Carla, come stai? Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Senti, siamo qua in Villa Recalcati, Varese, inizia un nuovo anno, una nuova stagione di Cereso in giallo, però facciamo un bilancio perché a fine maggio c'è stata la premiazione della scorsa edizione e com'è andata? Allora, siamo fortissimi del successo che abbiamo avuto nell'edizione 23-24, premiazione è stata a Palazzo Estense a Varese, con tantissima gente, più di 300 persone, grande pubblico entusiasta, abbiamo avuto più di 500 opere tra tutte le sezioni, le giurie meravigliose, tecniche, con dentro anche l'Accademia della Crusca e molti giornalisti, direttori di giornali, abbiamo lettori indipendenti, libra indipendenti, insomma, bellissimo, oltre anche a delle giurie di ragazzi per le sezioni Giallo Junior. E quindi adesso ci siamo, lanciamo, forti di questo successo, lanciamo la nuova edizione. Certo, senti, una curiosità, ci sono tanti giovani che partecipano a questa vostra iniziativa? Sì, una delle nostre caratteristiche è proprio l'attenzione ai giovani, e infatti nel concorso abbiamo i due premi Giovani Autori Claudio De Albertis per gli under 35, sia nella sezione Editi che nei racconti inediti, poi abbiamo la sezione Giallo Junior, i gialli per ragazzi, dai nove anni in su, che vedono anche una giuria di ragazzi, quest'anno ne abbiamo avuti 15, che attribuiscono un premio e tra l'altro abbiamo aumentato quest'anno l'entità del premio della giuria dei ragazzi, proprio per darle maggiore importanza, perché sono loro che leggono questi gialli per ragazzi. Certo, che sicuramente è una cosa importante anche questa, no? Importantissima, la promozione per tutti della lettura e soprattutto per i giovani, a questo proposito lancio la novità di quest'anno, che è proprio la promozione del diritto alla lettura per tutti, quindi abbiamo creato questa nuova sezione, riconfermiamo le cinque sezioni Editi, racconti inediti ambientati sui laghi, Giallo Junior, Giallo nel cassetto, romanzi inediti e la sezione letteraria e fotografica, ma lanciamo questa nuova sezione per romanzi gialli, solito, polizieschi, investigativi e noir, che si rivolge però agli e-book accessibili con certificazione LIA, cioè sono dei gialli messi in e-book, ma questi e-book si avvalgono di una nuovissima tecnologia anche per i non vedenti e gli ipovedenti, quali da questo e-book possono scegliere la modalità di lettura e quindi o la modalità audio, o il braille in digitale, o gli ipovedenti, l'ingrandimento forte dei caratteri ed anche la descrizione alternativa se ci sono figure, colori, grafici. Quindi una, come dire, una volontà di carattere sociale del nostro concorso, ancora una volta. Certo. Carla, una curiosità, perché poi alla fine della fiera tanti magari guarderanno e sentiranno questa nostra intervista e diranno, ma come si fa a partecipare? Dove troviamo le informazioni? Assolutamente. Oggi stiamo lanciando il nuovo regolamento e lo trovate o sul sito di Cereso in Giallo, www.ceresingiallo.it, sul sito del Premio De Albertis, sempre premiodealbertis.it, sulla nostra pagina Facebook Cereso in Giallo ed anche lo troverete sul sito dell'Accademia della Crusca, ovviamente. Certo. E un'altra cosa è, c'è qualcosa da pagare per iscriversi? Assolutamente. Il concorso è a partecipazione gratuita e ci sono dei bellissimi premi. I premi sono in denaro. Faccio un esempio. Il primo dei romanzi editi sono 1.500 euro. La nuova sezione avrà un vincitore con 1.000 euro e via via tutte le sezioni hanno i loro premi. E come vedete siamo in compagnia di Jenny Santi, un'altra organizzatrice, c'è un'altra colonna portante di questo Cereso in Giallo, questa sesta edizione, giusto, Jenny? Sì, è nata ormai un lustro fa e l'abbiamo fondato io e Carla con tanto entusiasmo e veramente stiamo vedendo dei risultati al di là delle nostre aspettative. Non ve lo aspettavate? Non ce l'aspettavamo, sia come numero di opere, come soggetti, enti che ogni anno scelgono di sostenerci, tantissimi autori, tantissimi giurati e poi, come scoprirete tra poco, insomma anche tante novità per l'edizione 24-25. Certo, tra le altre cose, la cultura legata anche un po' al territorio, questo Cereso in Giallo. Assolutamente, perché fin dal primo anno abbiamo voluto da una parte sostenere la lingua italiana e come sapete sono anche molti i circoli di lingua italiana nel mondo che collaborano con noi e dall'altra parte anche valorizzare e far conoscere i bellissimi territori lacustri che caratterizzano questo territorio in subrico e pensiamo che la cultura sia un ottimo strumento di valorizzazione del territorio. Senti, opere l'anno scorso più di 500, quest'anno cosa vi aspettate? Diciamo sempre, speriamo non troppe, ridendo, nel senso che ci fa molto piacere ma significa anche tanto tanto impegno da parte delle giurie e non a caso, anzi colgo l'occasione, chi volesse far parte della nostra giuria può scrivere a Cereso in Giallo, chioccio e la gmail.com con un breve curriculum e a braccia aperte cospiteremo sicuramente anche nuovi giurati che potranno collaborare con tanti giornalisti, direttori di testate, accademici della Crusca quindi veramente un parterre molto importante anche per la nostra giuria che valuterà i numerosi libri che ci aspettiamo, che attendiamo anche per quest'anno. Certo, come aveva già accennato Carla prima, ci sono anche tanti giovani che partecipano e scrivono, giusto? Sì, esatto, ci sono dei premi speciali dedicati a loro abbiamo sia proprio la giuria dei ragazzi per il Giallo Junior abbiamo il premio Claudio D'Alberti sia per la sezione romanzi editi che per i raccontini editi ambientati sui laghi in questo caso giovani fino ai 35 anni che possono scrivere e che quindi possono concorrere ai premi speciali e vediamo che sì, sono molto vissuti e partecipati questi premi ci fa molto molto piacere E per partecipare praticamente c'è il sito internet? Sì, c'è il sito ceresongiallo.it.com dove si può scaricare il regolamento potete andare sulle pagine social sia Facebook che Instagram di Cereso in Giallo lì troverete veramente tutto e soprattutto potete scrivere a ceresongiallo.com per avere qualunque ulteriore delucidazione noi ci siamo, vi presentiamo volentieri il nostro regolamento e in bocca al lupo i partecipanti Quindi parte la nuova edizione di Cereso in Giallo e in bocca al lupo a tutti e scrivete, 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 giusto? Esatto, scrivete, scrivete e noi vi aspettiamo Siamo in compagnia del consigliere Michele De Toro buongiorno Buongiorno a voi È un piacere vederla e tra le altre cose mi piacerebbe capire anche da parte vostra della provincia la crescita che ha avuto questa manifestazione e quindi l'importanza di fare cultura oggi Sì, sul territorio è diventata una manifestazione importantissima oggi c'è bisogno di cultura la provincia c'è ma non solo la provincia è la casa delle associazioni è la casa della cultura è la casa dei comuni ed è quello che abbiamo implementato in questi anni con il presidente Magrini e con tutto il consiglio sono felice di aver partecipato anche alla lettura dei libri di alta qualità veramente tra l'altro ero tra i giurati e mi è stato difficile scegliere perché ho letto sette libri a cui ho dovuto dare un giudizio ma con difficoltà per cui sono rimasto veramente esterefatto dall'alto profilo dei candidati che si propongono in una cornice che è la nostra provincia la provincia dei Lachi Varese Noir cresce cresce Varese in giallo e speriamo di augurare a questa manifestazione un proseguo sempre maggiore e che si affiacca alle altre manifestazioni che abbiamo in provincia di Varese per cui siamo felici di averli ospitati non solo di ospitare stamattina questa conferenza stampa e quindi di essere vicino agli amici di Varese in giallo certo grazie e comunque è una bellissima città Varese e quindi è anche un po' facile diciamo scrivere delle cose in merito a questo posto noi siamo in una villa che era un ex albergo ed è un fiore all'occhiello della città con i giardini estensi con l'hotel palace c'è il liberty ma c'è una storia che nasce dal lago dagli elementi palafitticoli diciamo e cresce sempre di più ed è la città giardino per eccellenza per cui si presta anche a essere lo scenario naturale anche di racconti e di racconti anche noir grazie grazie per essere stato con noi buon lavoro ci vediamo presto benissimo grazie a voi e siamo in compagnia del vice sindaco di Varese Ivana Pirusin è un piacere averla qua con noi la manifestazione cresce ogni anno e quindi siete contenti anche voi come comune di Varese si siamo molto contenti questa è davvero una manifestazione che è cresciuta in maniera direi proprio esponenziale e dal mio punto di vista oltre insomma i benefici culturali ha anche un impatto sul territorio perché abbiamo tantissimi scrittori quest'anno hanno quasi 500 che scrivono scrivono del nostro territorio e quindi raccontano le bellezze di tutta la provincia di Varese e quindi questo diventa davvero un momento e una vetrina per la nostra città in più tutte queste persone e questi scrittori vengono a Varese quindi è un'ulteriore opportunità per fare vedere e per mettere in mostra quelle che sono le bellezze del nostro territorio certo che Varese è anche un posto giusto per fare un po' di turismo dal mio punto di vista meraviglioso per fare turismo i numeri ci lo confermano nel senso che il turismo anche nel nostro territorio e nella nostra città sta crescendo come Cereso in giallo in maniera esponenziale anno su anno cresciamo sempre a doppia cifra e ormai per noi il numero di riferimento l'anno di riferimento è il 2023 non più il 2019 ante Covid dove abbiamo chiuso con più di 320 mila notti e questo proprio perché abbiamo uno splendido territorio che rimane sul fondo e la città ma insieme a tutte le altre grossi enti che operano sul territorio come la provincia la Camera di Commercio anche la Regione Lombardia da anni ormai stiamo lavorando affinché il territorio diventi meta di turismo utilizzando quelle che sono le nostre leve ovvero da un lato la bellezza e quindi il fatto di stare in una città bella ma sicuramente città di sport e città di cultura mi raccomando venite a visitare Varese ne vale la pena perché è veramente una bella città intanto grazie per essere stata qua con noi e aver detto quello che c'era giusto da dire per questa manifestazione importantissima buon lavoro e grazie alla prossima grazie mille a voi per l'invito e un buon lavoro a tutti quanti grazie grazie a tutti grazie a tutti